Ma hai mangiato queste? Le pesche? Sì, ma sono particolari queste. Sì. Come si chiamano da voi a Roma? Non me lo ricordo, però... Da noi si chiamano pesche tabaccare. Le pesche cinesi sono. Le pesche cinesi. No, le tabaccare che si chiamano. Oddio, che vento che c'è qua. No, qui no, qui non c'è il vento quasi muore. Ma puoi capire che il vento che c'è qui? No, qua no. Qua si muore. E forse, perché dici che si spaccano? Sto parlando con Teo, che ti saluta. Ciao Teo. Nina. Tano saluta pure lui. Devi studiare la poesia. Quale poesia? I volessi trovare. Ma quando? Io mi hai mandato la poesia. Io volessi trovare pace. Come? Te l'ho mandata. No, no, la volta scorsa. Ah, quella là. Ah, sì, 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 sì. Ma quella scusa mia, adesso non vorrei contestare per carità. Ma non l'avevamo già fatta io e te. La primissima volta. No, la primissima volta mi ha fatto un ammurato mio. Ma tu sei sicuro? Sì. Va bene, allora me la sono... I volessi trovare pace. Te la mandai e poi l'abbiamo sospesa per fare mamma in occasione della festa della mamma. No, ma dico, prima ancora non l'abbiamo fatta, sei sicuro? No, un ammurato mio mi ha fatto un ammurato. Ma è strano questa cosa. Comunque Soler ti piace molto, te lo dico, eh. Quando la vogliamo fare? Domenica o sabato? Non lo so, perché bisogna capire pure lo stand qui delle persone, perché molti adesso, con il fatto che hanno un po' aperto quasi, non dico le frontiere, però uno va più spesso in giro.